Claudio Strozziere ha rassegnato le dimissioni da presidente della Ruzzoreti SPA per l'impossibilità di portare a termine il risanamento dell'ente. Il binomio Banca Tercas e Teramo Basket inteso come main sponsor è finito ufficialmente oggi. Il manager dell'Asl di Teramo Giustino Varrassi replica al sindacato Cimo in merito all'assunzione dei primari, nessun favoritismo agli amici e tutte le assunzioni tramite concorso. Il PD è contrario alla realizzazione del polo scolastico nell'area sottostante il vecchio stadio di Teramo. Presentata oggi a Teramo la sedicesima edizione del concorso letterario Il Faro. Pull Scudetto di Serie D domani in campo Ponte d'Era e Forlì. Il Teramo ospiterà i Toscani domenica per gara 3. Appuntamento con la storia sabato prossimo per la Leader Cup Teramo. Alle 19 le Biancorosse si giocheranno lo Scudetto contro Salerno. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. Buonasera. Claudio Strozieri lascia la presidenza della Ruzzoreti SPA. Lo ha reso noto attraverso un comunicato stampa in cui denuncia l'impossibilità di portare a compimento il risanamento dell'ente e il servizio. Claudio Strozieri ha rassegnato le dimissioni da presidente della Ruzzoreti SPA, la società che gestisce l'acqua nel Teramano. Lo ha reso noto attraverso un comunicato stampa. in cui denuncia l'impossibilità di portare a compimento il risanamento dell'ente. In questi nove mesi di mandato, ha scritto Strozieri, ho cercato di rappresentare il desiderio e la volontà di discontinuità di gestione, così come mi era stato richiesto dall'Assemblea dei Sindaci. È convivo rammarico che ho dovuto prendere atto dell'impossibilità di portare a compimento tale mandato teso al risanamento dell'ente e alla corretta gestione dell'interesse pubblico. Dietro le dimissioni di Strozieri si celano problemi di rapporto all'interno del Consiglio di Amministrazione, più o meno celati in questi mesi dietro gli atti deliberativi adottati. Il CDA del Ruzzo è composto da cinque componenti, designati dall'Assemblea dei Sindaci, che fanno riferimento tutti all'area di centrodestra. Strozieri conclude, motivando le dimissioni, quale gesto di responsabilità che riconsegna ai sindaci, che ringrazio per la fiducia accordatami, la riflessione sul futuro dell'acquedotto del Ruzzo. Il binomio Banca Tercas e Teramo Basket, inteso come main sponsor, è finito ufficialmente oggi. Il commissario straordinario Riccardo Sora, infatti, ha chiuso tutte le porte alla società di basket, lasciando solo un piccolo spiraglio, ovvero quello di una normale sponsorizzazione, ma solo dopo la presentazione di un progetto pluriennale. Ascoltiamo il Sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, che ha incontrato proprio il commissario. Vediamo. Sindaco, i risultati di questo incontro con il commissario straordinario Riccardo Sora per la Teramo Basket? Io innanzitutto voglio ringraziare il commissario, il dottor Sora, per la disponibilità. Io ritengo un incontro positivo. La prima notizia da dare è che la Banca Tercas non sarà più main sponsor. Questo matrimonio, durato quattro anni come main sponsor, finisce quest'anno. Però sarà presente come sponsor della squadra cittadina e sarà presente anche per quello che riguarda la sfera sportiva del nostro territorio. Quindi credo che questa sia una buona notizia. È chiaro che per far questo, ma questo era stato un po' detto anche anticipato, c'è bisogno di un progetto, un progetto industriale pluriennale. Questa è una richiesta, diciamo così, che viene dalla Banca e che io ritengo giusta. Insomma, tutto sommato, un incontro, diciamo, positivo, che però giustamente mette dei paletti su quello che deve essere l'apporto della Banca alla nostra squadra di basket. Ora credo che ci sia bisogno anche di, in questi giorni si è parlato, insomma, del mondo, di un mondo imprenditoriale che si sta muovendo. Credo che questo sia positivo perché, diciamo, dimostra una sensibilità da parte del territorio. Quindi credo che adesso, insomma, chi ha, come dire, la volontà, la voglia di dare una mano a un proprio contributo, insomma, si possa, si debba fare avanti. Quindi per quanto riguarda la scadenza di domani dei 600 mila euro di contributi dovrà pensarci qualcun altro? Sì, perché, insomma, la banca, la sua attività da un punto di vista di sponsorizzazione per quest'annata l'ha già fatta e quindi non ci sono margini per un ulteriore intervento, però per il prossimo anno, diciamo, sportivo Banca Terca sarà presente come sponsor. Quindi ancora sponsor, però tramite un progetto ben preciso? Sì, sarà presente, poi, diciamo, sulle varie modalità si vedrà in un incontro successivo. Ci vuole un progetto, un progetto pluriennale, ma io questo lo ritengo anche giusto, insomma, e l'ho avuto anche modo di dirlo più volte al presidente Pellecchia, insomma, la necessità di avere un progetto, non dico a lunga scadenza, ma insomma, a media scadenza credo che sia importante, comunque una condizione che viene posta dalla banca. E adesso la cronaca, i carabinieri hanno arrestato a Neret un cinquantenne, Gabriele Di Emidio, residente ad Ancarano, con l'accusa di tentata estorsione continuata. L'uomo, negli anni 90, non aveva versato i contributi all'Inps. Equitalia è intervenuta mettendo all'asta la sua abitazione. Due aste sono andate deserte, ma nel corso della terza è stato il vicino dell'uomo ad aggiudicarsi la casa. Il cinquantenne ha così minacciato il vicino, arrivando fino al punto di pedinarlo lungo la strada che da Ancarano porta a Nereto, e fingere di speronarlo con l'auto. Il vicino ha così chiamato i carabinieri, che lo hanno arrestato all'arrivo a Nereto. Un 32enne di Alba Adriatica è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso mentre cedeva dosi di cocaina a un albanese di 25 anni, a sua volta denunciato per favoreggiamento in quanto negava l'accaduto. Il 32enne era già stato arrestato la scorsa settimana per lo stesso reato, condannato a un anno di reclusione e poi rimesso in libertà. I carabinieri di Silvi hanno apposto i sigilli a 13 appartamenti, 29 garage, 10 posti auto e 6 locali di sgombero trasformati in appartamenti arredati di un complesso residenziale composto da tre palazzini in esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo firmato dal GIP del Tribunale di Teramo, Giovanni De Rensis, su richiesta del PM Stefano Giovagnoni. L'ipotesi di reato per cui sono iscritte sul registro degli indaganti nove persone tra costruttori, tecnici pubblici e privati, uno dei quali dipendente del comune di Silvi vanno dall'abuso edilizio aggravato alla truffa e al falso. Il manager dell'Asla di Teramo, Giustino Varrassi, replica al sindacato Cimo in merito all'assunzione dei primari. Nessun favoritismo, ha detto Varrassi, per gli amici e tutte assunzioni tramite concorso. Sentiamo. Il Cimo, la Confederazione Italiana, medici ospedalieri, accusa l'Asla di Teramo. Ci sarebbe un'infornata di primari, una protesta quindi conseguenziale da parte dei medici e anche del clientelismo. È così, direttore Varrassi? Io, guardi, credo che non ho mai vissuto una tale serie di critiche per fare il tutto e il contrario di tutto. Il Cimo ci accusa di fare dei concorsi di primario che peraltro sono dovuti per legge considerando che l'Asla di Teramo è l'Asla con il più basso numero di primari che c'è in tutta la regione. Anzi, sta molto al di sotto del numero di primari che la regione stressa ci ha dato ed è per questo che noi abbiamo bandito questi concorsi. È ovvio che ci saranno delle insoddisfazioni personali di chi parla in questi articoli, ma io credo di essere nell'assoluta legalità e rispetto delle norme della regione, quindi non ho nulla da rimproverarmi, nemmeno che meno da rimproverare ai miei colleghi e collaboratori che hanno compartecipato con me tutte le decisioni che riguardavano questi concorsi di primario. Insomma, i concorsi vengono effettuati all'Asla di Teramo, i primari, i medici. Come entrano a far parte dell'Asla di Teramo? Ma in tutta la pubblica amministrazione chi entra, entra per concorso. Chi non entra per concorso è entrato in maniera illegale. Evidentemente il fatto di stare a rispettare le norme è una cosa che forse dà fastidio a qualcuno, probabilmente, non lo so. So che oggi siamo partiti con il primo di questi concorsi di primario. So che questa cosa è la serie, la ultima parte di una lunga serie di concorsi che questa Asla, questa gestione della Asla ha fatto, con cui abbiamo immesso nei ranghi della Asla oltre 200 persone, oltre 200 nuovi dipendenti. Mi pare che sia una azienda florida che mantiene e aiuta a mantenere in maniera opportuna anche la occupazione del territorio. Quindi, francamente, io non posso che essere molto felice del supporto che dall'ufficio del personale alla direzione amministrativa, alla direzione sanitaria, mi stanno dando nel gestire questa situazione. La Giunta Provinciale ha approvato un'anticipazione di cassa di 2 milioni di euro per pagare le imprese fornitrici. Un'operazione contabile straordinaria per sopperire al ritardo dei trasferimenti statali. Il Partito Democratico di Teramo è contrario alla realizzazione del polo scolastico nell'area sottostante il vecchio stadio comunale di Teramo. Sentiamo. Prende sempre più corpo l'ipotesi della realizzazione di un polo scolastico a Teramo. Il Partito Democratico, tuttavia, presenta alcune critiche su questo progetto. Sì, l'amministrazione comunale di Teramo sta portando avanti questo project financing per la realizzazione di un nuovo polo scolastico. Il progetto prevede di fatto la dismissione di alcune storiche scuole cittadine come la Savini e la San Giuseppe e la creazione di un campus all'americana nell'area del vecchio stadio comunale, quindi sotto alla discesa della San Giuseppe, nei terreni che confinano con il parco fluviale e con il fiume Tordino. Dal nostro punto di vista è una scelta sbagliata, innanzitutto perché le scuole attualmente si trovano in centro storico e la presenza degli studenti nel centro della città è fondamentale anche per mantenere ancora vivo il centro urbano cittadino e per mantenere ancora vive anche le attività commerciali ed economiche presenti. In secondo luogo è sbagliato quel sito per la costruzione di un polo scolastico perché sono dei terreni che confinano con il parco fluviale, con il fiume Tordino, quindi non ci sembra il luogo più indicato per costruire una scuola. Si tratta poi di un'area verde e non vediamo il bisogno di andarla a cementificare. Terzo aspetto, quel sito ha come unica strada di comunicazione, come unica arteria, la circonvallazione Spalato che già adesso è sovraccarica di traffico, quindi pensare di andare a concentrare lì centinaia di ragazzi sicuramente non è una scelta opportuna dal punto di vista logistico e delle comunicazioni. Per questi motivi noi invitiamo l'amministrazione comunale di Teramo ad abbandonare questo progetto e a condividere con l'intera cittadinanza queste scelte urbanistiche che vanno a cambiare il volto della città. Di sicuro dobbiamo uscire dalla logica delle decisioni che vengono prese nelle stanze del comune, nei conclavi a porte chiuse. L'urbanistica deve essere una materia partecipata. Non c'è bisogno di andare a costruire, andare a cementificare ancora aree verdi in questa città. Abbiamo in centro storico tantissimi contenitori vuoti ed edifici dismessi che possono essere recuperati. Il prossimo anno scolastico inizierà in Abruzzo il 17 settembre e terminerà l'8 giugno 2013 per le scuole primarie e secondarie con 206 giorni di attività. La scuola d'infanzia cesserà le lezioni invece il 29 giugno 2013. L'aggiunta regionale su proposta dell'assessore all'istruzione Paolo Gatti ha approvato nell'ultima seduta il calendario scolastico 2012-2013. La CISL scuola regionale ha reso noto i dati circa i posti a disposizione degli insegnanti nella scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti nei corsi di abilitazione all'insegnamento e al servizio. Per l'anno scolastico 2012-2013 in Abruzzo sono stati 130 i posti nella scuola secondaria di primo grado e 580 posti nella scuola secondaria di secondo grado. Lo rende noto la CISL scuola regionale sottolineando che le università di Chieti Pescara e L'Aquila in base al decreto direttoriale 74 del 23 aprile 2012 del Ministero dell'Istruzione hanno emanato i bandi per le prove di selezione per i tirocini formativi attivi ai fini del conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento. Tali bandi prevedono l'iscrizione degli aspiranti insegnanti secondo la procedura informatizzata fino al 4 giugno. Le prove pre selettive dei test a risposta multipla per la scuola secondaria di primo e secondo grado si svolgeranno con il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di concorso dal 6 al 31 luglio 2012. I docenti che hanno insegnato senza abilitazione da tre anni con un servizio di almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico, afferma il segretario di CISL Scuola a Abruzzo, Andrea Leonzio, non dovrebbero partecipare ai test di ammissione al tirocino formativo attivo in quanto hanno già fatto esperienza sul campo. È positivo che si voglia riconoscere il lavoro di migliaia di insegnanti che hanno lavorato e servito la scuola pubblica in questi anni senza abilitazione. Gli aspiranti docenti a cui è rivolto il bando per l'abilitazione all'insegnamento, rileva inoltre la CISL, sono 752 di cui 212 per la scuola secondaria di primo grado e 540 per quella secondaria di secondo grado. I docenti che fanno supplenze senza avere l'abilitazione sono oltre 1200. I precari iscritti alle graduatorie a esaurimento sono 5243, mentre l'organico di diritto è composto da 15.050 docenti. Venerdì prossimo alle 20 presso la sala parrocchiale di Tortoreto Lido in via Giovanni XXIII si terrà un incontro pubblico dal titolo Verso il futuro di Tortoreto. Verranno illustrati il documento preliminare del nuovo PRG, la revisione normativa urbanistica e il piano di recupero dei centri urbani. L'estate è quasi alle porte, la Federazione Autonoma dei Balneatori è ottimista sulle presenze turistiche in Abruzzo. Nei prossimi mesi vediamo il servizio. Previsioni è l'insegna di un certo ottimismo per la stagione turistica estiva ormai alle porte. Lo sostiene un sondaggio condotto tra i propri associati dalla Federazione Autonoma dei Balneatori, la Fab CNA, secondo cui a pochi giorni dall'apertura ufficiale della stagione balneare si prospetta un andamento sostanzialmente in linea con i numeri del 2011, seppure con qualche piccola flessione. Ma in positiva controtendenza rispetto al 2010, vero anno orribile per il turismo regionale. La media stagionale, infatti, a fine agosto potrebbe attestarsi attorno a un 5% in più rispetto a due anni fa. A detta del segretario regionale della Fab CNA, Cristiano Tomei, seppure i mesi di giugno e luglio appaiono destinati a segnare qualche flessione, buone prospettive di recupero con gli interessi potrebbero maturare nel mese clou della stagione estiva, ovvero agosto. La previsione che oggi il nostro sondaggio, condotto tra oltre 350 imprese turistiche, fotografa come stabile, potrebbe essere modificata ad alcune scelte last minute, tanto da determinare un importante flusso di aumento delle presenze. Tomei, a detta della Fab CNA, a favore di una crescita delle presenze potrebbero giocare la tendenza, già verificata nel ponte di inizio maggio, a riproporre da parte di un vasto pubblico un soggiorno in luoghi già sperimentati e a breve distanza dal luogo di residenza, fattore cui potrebbe aggiungersi da parte di molte famiglie italiane alle prese con la crisi la consapevolezza che proprio nel mese di agosto si possa realizzare il sogno dell'unica vacanza dell'anno, senza dimenticare l'appeal esercitato almeno in Abruzzo dalla qualità dell'offerta enogastronomica. Indicazioni nel sondaggio della Fab CNA arrivano anche sulla dorata dei soggiorni e sulla spesa pro capite negli hotel e nelle altre strutture ricettive. Nel primo caso la media potrebbe attestarsi sulla settimana di presenza, nel secondo su una spesa media per lo stesso periodo di vacanza compresa tra i 1.300 e i 1.800 euro per un nucleo familiare di tre persone. Giovedì prossimo alle 11 presso la sala polifunzionale della provincia in Viacomi la stessa provincia convoca tutti i sindaci del territorio ad un incontro organizzativo per la quarantesima edizione della Coppa Interamnia. L'iniziativa spiega il presidente Catar, l'assessore provinciale allo sport Giuseppe Antonio Di Michele alla quale auspichiamo la più ampia adesione dei sindaci e il loro coinvolgimento è fondamentale per una migliore organizzazione dell'evento. Mario Ferzetti della segreteria provinciale di rifondazione comunista denuncia la presenza di rifiuti sotto il ponte messato di Teramo nei pressi dell'istituto per geometri. Nella zona messato-cona c'è una discarica a cielo aperto e questa è la denuncia di Mario Ferzetti. Sì, siamo nel quartiere cona questa mattina dove naturalmente abbiamo dei problemi endemici come io li ho chiamati sia per la chiesa della cona che in rovina che non si ristruttura sia per la questione del parco cona archeologico dove c'è una strada romana ma quello che è più importante per i cittadini e qui c'è una discarica a cielo aperto che è sotto il ponte su incontrata messato che io naturalmente anni fa già denunciai e che purtroppo è rimasta ancora così anche perché giustamente secondo il comune, secondo la Teramo Ambiente servirebbero 85 mila euro per bonificare ma io dico 85 mila euro i prezzi diciamo i rifiuti che noi paghiamo io penso che si devono trovare perché la bonifica fa fatta anche perché i cittadini la chiedono anche perché vogliono vedere diciamo il controllo dell'aria perché si sospetta che ci siano dei rifiuti speciali di rifiuti diciamo di amianto che noi sappiamo che l'amianto è molto molto pericoloso specialmente quello absesto. Quindi la sua richiesta qual è? Niente, la richiesta mia e dei cittadini è quella di bonificare, di togliere i rifiuti e quindi di bonificare la zona e di farla ritornare in una zona vivibile, una zona diciamo dove le case e i cittadini, i bambini possono stare tranquilli e non respirare sporgli di amianto malagolatamente e qui naturalmente la discarica, questa zona, questo percorso a scuola sta chiuso da sei anni e così sta buttato in mezzo ai rovi e abbandonato a se stesso. Giovedì prossimo alle 18 nella sala Carino Gamba Corta della sede centrale della Banca di Teramo verrà presentato il volume Leopardi, il filosofo della speranza curato da Silvano Vincenti. Il centro di cultura Anna Arendt di Teramo ha promosso in città un incontro dal titolo Attenti al lupo, incentrato sui pericoli del web. Vediamo. Attenti il lupo in rete, il tema dell'incontro promosso dal centro culturale Anna Arendt di cui è presidente Guendalina Di Sabatino, è dedicato ai ragazzi, ai giovani, in questo caso i ragazzi delle scuole medie. Qual è il lupo su internet? Chi è? Purtroppo il lupo in internet è lo sconosciuto con il quale i ragazzi chattano. Secondo i dati di Save the Children il 50% dei ragazzi chatta in rete con sconosciuti dentro casa, nella loro stanzetta, che arriva appunto lo sconosciuto, appunto il lupo, a contattare il ragazzo, a chiedere foto, informazioni, contatti, insomma, e quindi sappiamo che pedofilia e pedopornografia sono a portata di clic. Gli accorgimenti per evitarli? Certamente, allora sicuramente il mondo virtuale, i nostri nativi digitali, la generazione a cui abbiamo parlato oggi, sono appunto gli studenti di scuola media, hanno molte più possibilità rispetto alle generazioni precedenti, quindi comunque il messaggio è non paura, non clima di terrore, però comunque le possibilità moltiplicate in rete generano anche la moltiplicazione dei pericoli possibili. La cosa importante sarebbe realizzare una sorta di circolo virtuoso tra i ragazzi stessi, che devono essere comunque informati e avvertiti, i genitori e gli insegnanti, perché spesso il criminale in rete che vuole adescare un ragazzo lo vuole innanzitutto isolare, lo affascina col mistero, col segreto e attraverso il segreto lo può colpire, perché una persona sola è sempre più vulnerabile, questo vale anche per gli adulti, per la verità. E oggi gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Castellalto hanno parlato di astronomia ai loro coetanei provenienti da altre scuole terramane e servizio. La giornata dell'astronomia ha visto al Parco della Scienza tanti ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Castellalto, un modo per approfondire i temi inerenti al nostro universo stellato, pianeti, eclissi, lunari e quant'altro, una bella esperienza. Sicuramente un'esperienza entusiasmante per i ragazzi che sono stati coinvolti al massimo livello dalla curiosità di imparare e di apprendere e poi hanno avuto la possibilità di farlo con degli esperti che realmente lavorano all'astronomia, quindi del centro astronomico con l'Urania, che sono stati con i ragazzi veramente bravissimi nel presentare i vari argomenti cercando proprio di coinvolgerli al massimo e hanno trovato una curiosità veramente eccezionale da parte loro. In questo momento l'unica cosa che mi viene in mente è una frase del filosofo tedesco Emanuele Kant, il filosofo della ragion pura che nella critica del giudizio affermava il cielo stellato sopra di me e la morale dentro di me. Quindi il cielo stellato suscita sempre grandi emozioni. Come avete portato avanti questo progetto con i ragazzi? Beh dunque io e altri miei quattro colleghi dell'osservatorio astronomico di Teramo siamo andati durante il corso dell'anno nelle classi e abbiamo cercato un approccio il più diretto possibile con i bambini e i ragazzi cercando di spiegare loro concetti complessi come quelli astronomici nel modo più semplice possibile. Quali sono gli obiettivi di questa iniziativa? Allora sicuramente il progetto scientifico Osserviamo il cielo è un progetto che nasce da un patto, da un protocollo d'intesa con l'osservatorio astronomico di Colorania. È un progetto scientifico che tende appunto a valorizzare la cultura scientifica affinché i ragazzi possano in qualche modo sviluppare quelle competenze scientifiche che poi serviranno a loro per magari fare scelte da adulti sempre verso l'aspetto scientifico e matematico. È stata presentata oggi a Teramo la sedicesima edizione del concorso letterario Il Faro. Vediamo il servizio. Torna il fortunatissimo concorso letterario Il Faro giunto alla sedicesima edizione. Proprio il 16 giugno alle 17 nel Parco della Scienza si svolgerà la premiazione. È un concorso letterario importantissimo, bellissimo, bello per l'idea, bello perché permette a questi ragazzi di diventare oppure di sentirsi almeno per qualche istante scrittori, poeti. Stimola la loro creatività, il loro impegno, la loro fantasia. Poi la sedicesima edizione significa che è un premio, un concorso che ha delle fondamenta, che ha delle basi. Un modo per i bambini per migliorare la loro dialettica, la loro scrittura e per gli adulti non solo questo ma anche ricordare i giorni di scuola. Il premio letterario Il Faro, siamo quest'anno alla sedicesima edizione, è vero, ha assunto una rilevanza provinciale. Il nostro obiettivo è quello che esca dalla provincia e che sempre più scuole partecipino. Quindi bisogna che fin dall'inizio dell'anno scolastico ci attiviamo in modo capillare per organizzare i lavori. Intanto è vero che la giuria è composta da così tante persone proprio perché abbiamo un numero di lavori importanti da valutare. Quest'anno, dicevo prima, ci sono nove scuole, 30 classi diverse, 174 lavori di poesia, 79 di narrativa, in più c'è la sezione adulti. Quindi è una festa, la festa della scrittura, la festa del lessico ma soprattutto la festa delle idee. I bambini si misurano con il testo narrativo, con la composizione ma che non deve essere una semplice rima baciata oppure un compitino ben fatto dal punto di vista grammaticale ma deve essere un'idea che si sviluppa. E adesso vediamo insieme che tempo farà domani con le previsioni di Meteoteramo.it Previsioni per domani in provincia di Teramo. Al mattino addensamenti in aumento su tutto il territorio provinciale. Nel pomeriggio ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge e rovesci sparsi in transito a partire dai settori settentrionali. Tra sere e notte ampi rasserenamenti. Temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 18 e 21 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 19 e 22 gradi sulle coste. Venti deboli o moderati settentrionali, adriatico calmo o poco mosso. Apriamo la pagina sportiva con il calcio di seconda divisione in attesa di conoscere il proprio futuro. In casa Giulianova tiene banco la vicenda della scuola calcio. Un gruppo di imprenditori locali rappresentato dall'avvocato Berardo D'Antonio e dal tecnico Francesco Giorgini ha intenzione di acquisire tutta l'organizzazione fondata a suo tempo dal compianto Emilio della Penna. Intanto questo gruppo di imprenditori sta pensando di avviare una collaborazione anche con il Cologna Spiaggia che possiede un settore giovanile molto interessante curato da Nicola Tribuiani. Teramo in campo domenica prossima contro il Pontedera. Gara valida per la Pool Scudetto. Il servizio. Dopo la vittoria in gara 1 contro il Forlì, il Teramo domani osserverà un turno di riposo mentre Pontedera e lo stesso Forlì si affronteranno nel secondo incontro della Pool Scudetto. La scuola di Cappellacci tornerà in campo domenica per affrontare i Toscani del Pontedera. Gara 3 del cammino verso il tricolore dei dilettanti. L'unico dubbio di formazione riguarda al momento Serraiocco. Il portiere del Teramo accusa un risentimento buscolare che molto probabilmente dovrebbe lasciarlo in tribuna. Al suo posto Cappellacci inserirà se necessario Pompei. Per la gara contro il Pontedera la società ha reso noto che saranno regolarmente vari degli abbonamenti sottoscritti nel corso della stagione. Mentre domani i Toscani ed il Forlì si affronteranno per la Pool Scudetto, San Benedettese e Ancona daranno vita dalle 17.30 alla finale play-off. Il Rosso-Blu dovranno farlo senza pazzi, fermato per due giornate dal giudice sportivo, così come Ambrosini da Sponda Dorica. Al posto dell'attaccante della Samb, in ballottaggio, Donzelli e Voinea. Ancona e San Benedettese che si affronteranno domani condividono anche una multa da 1.000 euro combinata dalla giustizia sportiva. La tifoseria Dorica è infatti stata multata per aver lanciato Petardi nella gara contro la Civitanovese, mentre quella della Samb per aver utilizzato fischietti non idonei. E adesso il basket, l'abbiamo detto all'inizio del nostro telegiornale, oggi è stato un buonissimo giorno per il Teramo Basket, perché il binomio Banca Tercase e Teramo Basket, inteso come main sponsor, è finito ufficialmente oggi. Il commissario straordinario Sora ha chiuso tutte le porte alla società teramana di basket, lasciando solo un piccolo spiraglio, ovvero quello di una normale sponsorizzazione, ma solo dopo la presentazione di un progetto pluriennale. Sora ha detto tutto questo al sindaco di Teramo Brucchi nel corso dell'incontro e si è tenuto questo pomeriggio la presenza anche del segretario generale della presidenza della giunta regionale Enrico Mazzarelli. Il no dell'istituto di credito, seppure ce ne fosse stato bisogno, apre ufficialmente la crisi societaria. Si pone adesso il problema della scadenza, prevista per domani, di 600 mila euro di contributi. E sono sei gli imprenditori interessati alla società bianco-rossa, ma presto al gruppo potrebbero aggiungersi altre due persone. La cordata, rappresentata dal commercialista Teramano Marco Desiati, ha già chiesto alla società bianco-rossa i documenti contabili per poter poi avviare eventualmente una trattativa. E adesso alla palla a mano femminile. Appuntamento con la storia sabato alle 19 per la leader Copteramo. La squadra di Serafino Labberciosa affronta Salerno per il tricolore servizio. Ha cominciato ieri la leader Copteramo a scaldare i motori per la finale Scudetto in programma sabato al Palas San Nicolò. La squadra si è ritrovata per il classico allenamento defaticante dopo lo sforzo profuso sabato scorso a Salerno. Una vera e propria impresa se si considera che il pubblico di Salerno ha fatto davvero di tutto per trascinare la sua squadra al terzo Scudetto consecutivo. La leader Copteramo però si è tappata le orecchie cogliendo un successo che riporta a Teramo la serie della finale Scudetto. Sabato, in ogni caso, si avrà una nuova squadra campione d'Italia. Se la gara dovesse terminare in parità, si giocheranno due tempi supplementari da cinque minuti. Se dovesse permanere la parità, ci saranno altri due tempi supplementari prima degli eventuali rigori. Domani si conoscerà la coppia arbitrale designata ad arbitrare l'importante sfida. Dopo la buona prova del duo di Domenico Fornasiera di sabato scorso a Salerno, arbitri che non si sono lasciati condizionare dal clima rovente del Palapalumbo si spera in una designazione altrettanto imparziale. Al cospetto di pluricampionesse a caccia dell'ennesimo titolo ci vuole una prova di coraggio anche da parte dei fischietti. La LeaderCop lancia l'appello ai tifosi Teramani per giungere in massa sabato al Palas San Nicolo per questa sfida molto importante. Ascoltiamo il Presidente Carnevale. Presidente, sabato alle 19 c'è un appuntamento importante, un appuntamento che la LeaderCop non può fallire. Sì, sabato è la bella della finale Scudetto. Dopo di questo non c'è possibilità di recuperare e sia noi che loro siamo determinati a ottenere il massimo da questa gara. Per Teramo in particolar modo, con un risultato positivo, sarebbe il primo Scudetto che si porta a Teramo e noi cercheremo di fare, come abbiamo sempre onorato e abbiamo fatto durante il campionato, cercheremo un attimino di far sì che questo sogno sia vero per la città di Teramo. Sogna un pubblico come quello visto sabato scorso a Salerno, un pubblico che dia il sostegno alla squadra, vuole fare un appello? Il pubblico di Salerno numericamente è stato di meno inferiore ai tanti sportivi e tifosi teramani che già in gara 1 sono venuti a vedere la partita. Però è stato più ronoriggiante perché loro hanno un tifo organizzato e negli anni è sempre stato l'ottava giocatrice in campo. L'appello che voglio fare è ringraziare tutti gli sportivi e i tifosi che sono stati in gara 1 e colgo l'occasione per invitare tutti gli altri sportivi e teramani che non erano presenti in gara 1 perché è un evento che rimarrà nella storia e colgo l'occasione anche eventualmente di invitare pubblicamente il tifo organizzato perché abbiamo bisogno anche di loro. In un catino del Palazzo a Nicolò la loro voce e i loro tamburi sono importanti per ottenere il massimo della gara. Ci crede nella vittoria? Ci credevo a Salerno, figuriamoci a terra. Prima di salutarci vi ricordo gli appuntamenti di questa sera su Teleponte alle 20.30 alla gara Forlitera un po' alle 22.30 all'appuntamento con il TG Flash della notte e vi ricordo che ci potete seguire sempre in diretta e in differita sulla nostra web tv www.teleponte.it domattina riprendete a vedere Teleponte alle 7 in diretta con Prima di Tutto. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti.